Buon pomeriggio cari amiche e cari amici, oggi vi voglio parlare di un prodottino che avevo acquistato tempo fa da Inns e ve lo avevo mostrato, se mi ricordo ve lo lascio qua. E' questo bellissimo massaggiatore per le gambe, io pensavo fosse poi in realtà una cinesata o una cineseria perché l'avevo pagato veramente poco, da quando lo uso io ho riscontrato un notevole beneficio alle gambe, sarà una cavolata, vedete com'è fatto. Tra l'altro è di una gansata pazzesca perché si adatta alla circonferenza delle vostre gambe e permette un massaggio, vedete, addirittura fin sotto al gluteo. Quindi quando io rientro dalla mia corsa quotidiana dopo la doccia mi ungo con tutti i miei body oil di cui vi lascio qui il video, crema, anticellulite o comunque l'olio contro gli inestetismi della cellulite aiutandomi con questo marchingegno diabolico che vi devo dire mi dà un notevole sollievo. Io ho nella gamba a destra una zona molto ricca, è un'area in cui i capillari risultano un po' strozzati dopo tre gravidanze. Questi capillari si sono strozzati e quindi sono venuti un po' in superficie, si vede a livello estetico. Ecco, io d'estate solitamente li copro con il correttore perché bene sì, il correttore serve anche a coprire quei capillari antipatici che magari ci rovinano un bellissimo outfit dove possiamo sfoggiare gambe chilometriche ma dove c'è qualche piccolo particolare estetico antipatico come in questo caso nel mio i capillari. Ho deciso di andare proprio a insistere con questo marchingegno nella zona. Lo avrò in uso da due settimane, voi non potete capire il sollievo. Secondo me questa azione proprio energica che tra l'altro vi consente anche di allenare tutta la muscolatura delle braccia perché sollecitare i muscoli del braccio, dell'avambraccio, i bicipiti, prima sulla parte destra e poi sinistra è veramente impegnativo, cioè si sente che le braccia si muovono. E questi rulli, vedete queste palline, sono delle circonferenze a cui sono incorporate queste palline che consentono veramente un massaggio a 360 gradi e la gamba sembra veramente drenata. Sembra come se delle mani, più mani, venissero proprio a intervenire sulla zona. Vi posso garantire che i due euro meglio spesi di tutta la mia vita. Sono andata a rivedere da INSS se erano ancora disponibili, invece erano totalmente finiti. L'INS è un po' come il Lidl, ha questi corridoi con questi mega cestoni. Se avete un INSS nelle vostre città, controllate perché spesso capita che abbandonati quindi poi ritroviate alcuni gadget proposti nei giorni scorsi e questo ve lo consiglio. Forse si trova anche su Amazon, non lo so. Da quando l'ho scoperto, da quando l'ho comprato, tutte le sere che rientro, tutte le sere in cui vado a correre e che rientro, dopo il post doccia, quando la gamba è bella calda, quando la circolazione è proprio tutta un fermento perché comunque la gamba si è mossa, passo lui e mi sento proprio le gambe rigenerate. È proprio un massaggio piacevolissimo che si può fare anche sedute comodamente sul divano se siete a vedere la televisione e vi passate lui. È proprio una manna, proprio top, top. Due euro, meravigliosi. Le perle del discount. Vi ho parlato della perla trovata all'INS. Ora vi parlo delle perle che ho trovato da Eurospin. Eurospin settimana scorsa, se non erro, aveva proposto tutta la linea tecnica per gli sportivi e inizialmente le maglie erano prezzate 9,99. Io ho trovato questa poi ribassata del 30% e ho preso questa maglia tecnica, ovviamente in rosa, a questa zona, vedete anche nella schiena, con queste puntellature che dovrebbero rendere traspirante il materiale. E vi dico che è traspirante con questo tessuto tecnico e senza cuciture. Praticamente tutti questi fori che vedete nelle zone dove maggiormente si concentra il sudore e l'umidità, vedete la schiena, la zona ascellare e diciamo delle spalle, sono trattate con uno speciale trattamento che favorisce il trasporto dell'umidità all'esterno mantenendo la pelle asciutta in qualsiasi circostanza. Quindi 9,99 poi ribassato al 30% Questo è anche il completino da abbinare, la maglia con il cappuccio in questo rosa pallido, però io ne ho uno ormai distrutto. Vedete, è carino anche da contrasto, però tanto quando vado a correre non mi interessa di essere super curata perché tanto è fatica e si pensa solo la fatica. Stesso discorso, ha tutta una bella bordura, mi piace molto la zip. Queste costavano 12,99 euro però non erano ancora ribassate. Mi piaceva così tanto il materiale e il tessuto e comunque il concept di questo indumento che l'ho presa anche per l'uomo di casa che si allena spesso anche lui, infatti a lui ho preso una L che era da uomo in questo colore blu acceso mentre dentro è grigio e c'era un grigio un po' più chiaro ma essendo lui moro secondo me dona meglio questo colore anche qui col cappuccio e la L in questo caso veste due belle spalle perché insomma è bello piazzato quindi se avete Eurospin vicino a casa se amate fare sport ad un buon prezzo secondo me ad un prezzo simile a Decathlon però in questo caso mi sembrano veramente rifinite bene e io ho preferito prenderle da Eurospin anche se al Decathlon si trova sempre dell'ottimo materiale tecnico essendo all'Eurospin mi ha colpito proprio questa attenzione nei colori nelle rifiniture quindi anche i discount sono sempre forieri di prodotti interessanti di prodotti interessanti basta avere quindi giusto occhio e anche al discount si fanno ottimi acquisti detto questo io vi auguro una buona giornata noi ci vediamo domani credo di girare il video del Lidl in una posizione proprio estrema perché sarò fuori ufficio ho una riunione importante domani pomeriggio e però penso di riuscire a girare in una situazione un po' così particolare a domani un bacio grande ciao